ciao a tutti oggi prepareremo la torta di carote il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono carote uova farina doppio zero mandorle olio di semi sale zucchero lievito per dolci vanillina e la buccia del limone i quantitari e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo vidi ricette bimbi punto blogspot punti e mil via la ricetta iniziamo mettendo nel boccale le mandorle e le carote e le andiamo a tritare per 15 secondi a velocità 10 andiamo a mettere da parte il nostro trito adesso senza lavare il boccale andiamo a mettere le uova lo zucchero la buccia del limone e la vanillina e andiamo ad amalgamare per due minuti a velocità 4 adesso andiamo ad aggiungere la farina l'olio il lievito e il sale e continuiamo a impastare per un altro minuto a velocità 4 adesso andiamo ad aggiungere il nostro trito di carote e mandorle e andiamo ad amalgamare per un altro minuto a velocità 4 il nostro impasto è pronto andiamo a prendere uno stampo lo imburriamo trasferiamo l'impasto all'interno dello stampo e lo mettiamo in forno statico a 180 gradi per 30 minuti la nostra torta alle carote è pronta è possibile farla anche in versione merendine come le camille è possibile anche spolverizzarla con lo zucchero a velo noi adesso la andremo a guarnire con una glassa al cioccolato torta alle carote grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie